Le due paroline magiche adesso sono argomento controverso, di norma in abbinamento a o che incita all'odio. È la minaccia che ultimamente mi rivolge ad esempio YouTube quando inserisco un nuovo video. Occhio che da un po' di tempo tu pubblichi contenuti di argomento controverso o che incitano all'odio. Presto quindi potremmo bloccarti. La stessa censura in questi giorni la sta mettendo in atto anche Amazon, bollando come controversi, i libri che non recitano il copione ufficiale, libri che osano trovare motivazioni diverse da quelle ufficiali per spiegarle cose, rifiutandosi proprio per questo motivo di continuare a venderli. La questione è spinosissima perché se da una parte si tratta di enti privati che di conseguenza possono adottare le politiche che preferiscono, d'altro canto è evidente che l'ambito pubblico, proprio quello che dovrebbe ergersi a tutore della libertà di espressione di ognuno di noi, stia letteralmente battendo in ritirata. Si pensi anche soltanto a quanto sia complicato, da colossi come questi riuscire a ottenere che paghino le tasse. Un privilegio immenso, accordato proprio al loro smisurato potere rispetto a un disgraziato universo di piccole aziende inesorabilmente strette nell'implacabile, ma solo per loro, morsa del fisco. Anche di questo parlo nel mio nuovo libro in uscita tra poco. Controverso. A ben pensarci, un'opinione su un certo argomento è sempre controversa, perché proprio in quanto tale è implicito che qualunque opinione sia appunto discutibile. Ma se ci sono opinioni contrastanti rispetto a un certo tema, significa con la massima evidenza che sia questo che sia il tema in questione, ad essere soprattutto controverso. Dunque non è per nulla ammissibile che si censuri un certo punto di vista su un argomento, bollandolo come controverso. Bisogna semmai accettar che l'argomento stesso lo sia, proprio grazie al fatto che esistono diverse opinioni a riguardo. Insomma, è proprio un'accesa discussione su una certa questione che rende quest'ultima controversa. Non il contrario. E viva Dio, quasi tutto ciò che accade nel mondo è controverso. Altrimenti, a cosa servirebbe mai essere liberi di esprimersi. Invece no, qui sta accadendo qualcosa di mostruoso. Dopo secoli di conquiste verso la libertà di pensiero e di parola, ora stiamo drasticamente operando un'inversione a U, con la scusa che certi temi non si toccano. Perché ne va della salute della gente, come nel caso di questioni riguardanti la cosiddetta medicina ufficiale. Perché ne va della democrazia, come nel caso di questioni riguardanti la cosiddetta storia ufficiale. E il colmo è che proprio in nome di questa democrazia le censure e le violazioni delle più fondamentali libertà costituzionali ormai si sprecano. Fatemi capire, il male sta nel controverso? Il male, insomma, sta nel discutere? Ma che razza di viscita dittatura per giunta lasciata saldamente in mano a quelle multinazionali private da cui nessuno può difendersi state creando? Se poi da un lato sarebbe quanto meno interessante capire cosa renda ufficiali una teoria o una narrazione, se non un'imprescindibile ed esaustiva discussione in merito da parte di tutti i possibili punti di vista in gioco, come non riflettere dall'altro lato sull'espressione magica numero due, quella incitazione all'odio di Orwelliana memoria che nient'altro significa se non che chi gestisce il potere, fissa l'ufficialità di tutte le indiscutibili verità del sistema in cui viviamo sia inevitabilmente dalla parte dell'amore. L'amore in virtù di cui altrettanto amorevolmente chi dirige la baracca stronca sul nascere qualunque idea diversa dalla sua, condannando all'ignoranza, all'inettitudine e alla passività intere società, e alla morte chi per quelle idee e per i libri in cui le espone vive. Buonasera.